Giornate turbolente in casa Avezzano. Il brutto inizio di stagione è stato intanto pagato dall'allenatore Antonio Mecomonaco che nella giornata di ieri è stato sollevato dall'incarico. Poche ore dopo l'annuncio da parte della società sui social è esplosa la rabbia del portiere Chico Fanti, uno dei veterani e dei giocatori più rappresentativi della squadra che con toni a dir poco perentori ha dato l'addio all'Avezzano Calcio con tanto di sfogo. Due mesi senza vedere un euro, due mesi senza preparatore dei portieri, due mesi abbandonati a noi senza nessuna presenza della società scrive in uno dei passaggi di un post pubblicato su Facebook e poi conclude Per me Avezzano con questa società è un capitolo chiuso. Tornando a Mecomonaco l'allenatore è stato esonerato all'indomani della gara di Coppa persa in casa col Pineto 0-1 con tanto di eliminazione dalla competizione. In realtà il provvedimento è il risultato di un difficile inizio di campionato con un solo punto raccimolato in quattro partite e prestazioni, soprattutto contro Sangiustese e Vasto Girardi, decisamente negative. Adesso il presidente Luciano D'Alessandro sta vagliando il profilo del nuovo allenatore il nome più gettonato, ora in proposition, sembra quello di Alessandro Del Grosso che ha chiuso ad agosto, prima della disputa delle gare ufficiali, la sua esperienza nel lanciano di De Vincentis avendo vinto i campionati di prima categoria e promozione. Chiunque sia il prescelto però dovrà fare i conti, come se non bastasse, con le incognite di una eventuale cessione societaria. Lo stesso presidente D'Alessandro, tramite una nota societaria, ad inizio settimana era uscito allo scoperto dichiarando che, benché una vera e propria trattativa non sia ancora iniziata, contatti vi sono stati con l'imprenditore del frusinate Claudio Quattrociocchi col quale sono saltati alcuni degli incontri che erano stati all'origine programmati. Il fronte, tuttavia, resta aperto. Così come in questi giorni si parla dell'interessamento del commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco, che in ambito calcistico è stato già presidente di San Buceto e Giulianova e addirittura di un clamoroso ritorno dell'ex presidente bianco-verde Gianni Paris che quasi un anno fa aveva ceduto alla società, all'allora vice D'Alessandro. Lo stesso D'Alessandro ha ribadito, sempre nella nota, la sua apertura verso chiunque abbia la volontà di acquisire l'Avezzano sempre che abbia un progetto solido alla base, volto al bene della squadra e della città. In questo bailam, già dopo domani, sarà di nuovo campionato con la squadra chiamata a restare concentrata il più possibile sul campo per centrare la prima vittoria contro una Iesina che ha un punto in più e anch'essa cerca il primo sorriso stagionale.